Come molti di quelli che credevano di avere qualcosa da dire, ho cercato di dirla attraverso la letteratura, però per fortuna mi sono accorto rapidamente che non era quello, ho provato con la musica anche perché io sono molto appassionato, mi piace e anche lì mi sono accorto rapidamente che non era il mio campo e allora ho scelto come quasi tutti quelli che allora e anche adesso probabilmente fanno il cinema, come ripiego fanno il cinema, perché chi ha qualcosa veramente da dire non fa cinema, fa altre cose in cui lui è veramente responsabile, ecco mi sono messo a fare il cinema. Io dal 1935, quando ho cominciato sono andato appunto a aiutare il legista mentre si è parto, a oggi non sono mai stato fermo, mai 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 un giorno. Grazie.